Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con ConfCommercio Notizie. Questo decreto energia già non basta e servirà a intervenire di nuovo. Così Sergio Rebeca, presidente di ConfCommercio Vicenza, ha commentato il provvedimento del governo finalizzato a contrastare gli aumenti dei costi energetici. Il decreto, evidenzia il presidente Rebeca, ha risposto alle richieste di ConfCommercio Nazionale di inserire nelle agivolazioni anche le imprese che generalmente non vengono considerate energivore e gassivore. Però, a fronte di bollette di gas ed energia raddoppiate o triplicate, l'intervento risulta limitato e da rafforzare sia per quanto riguarda la percentuale di credito d'imposta che per la sua decorrenza e la sua durata. Eppure la platea degli aventi diritto va ampliata, evidenzia il presidente di ConfCommercio Vicenza, perché aver previsto le agevolazioni solo alle imprese con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kilowatt, rischia di lasciare fuori più di qualche attività commerciale o pubblico esercizio, in particolare di piccole dimensioni. Anche sulle accise di benzina e gasolio per ConfCommercio Vicenza si doveva fare di più, a prescindere dagli importi, delle riduzioni, la misura appare infatti troppo limitata nel tempo. Infine per l'associazione risultano non pervenute alcune misure considerate essenziali che ConfCommercio nazionale ha posto sul tavolo del governo. L'introduzione del prezzo amministrato del gas, la riforma della fiscalità del settore, la riduzione dell'IVA sull'energia elettrica e l'azzeramento dell'imposta erariale sull'energia elettrica. La prossima discussione del DEF, il documento di programmazione economica finanziaria, dovrà prendere in esame anche queste soluzioni, conclude il presidente Rebeca, con una visione, si spera, più strutturale e non solo emergenziale. A quattro anni dalla firma del primo protocollo datato marzo 2017, il Comune di Costa Bissarra e la ConfCommercio provinciale rafforzano la loro alleanza sul fronte della promozione turistica del territorio con un nuovo accordo che trova ora il suo fulcro nella piattaforma web easyv.it, il portale turistico gestito da ConfCommercio Vicenza che conta oltre 200.000 visitatori l'anno. A sancire questo nuovo step è stata la firma del nuovo protocollo d'intesa per una valorizzazione della cultura e del turismo da parte del sindaco Giovanni Mariaforte e del vicepresidente di ConfCommercio Vicenza Nicola Piccolo, alla presenza anche dell'assessore al commercio Fabio Bonato e della presidente della locale delegazione ConfCommercio Paola Verzara. Mettere insieme il pubblico con il privato, con gli interessi delle imprese, in questo caso dei commercianti, perché poi il ritorno è un vantaggio per tutto il paese e per la società. A Costa Bissara siamo ricchi un po' di natura, chiamiamola, di verde, abbiamo colline fantastiche, una cornice che ci chiude verso ovest e quindi la gente trova quei momenti così veramente importanti di fine settimana, di quando sono liberi per rilassarsi, per trovare situazioni ambientali interessanti. Con easyv.it il nuovo sito che permette tramite anche l'accesso che avviene tramite un QR code di avere una visibilità a 360 gradi di quello che c'è da fare sul comune con tutte le proprie attività, con tutte le bellezze storico-culturali, i sentieri ciclopedonali e anche le attività commerciali che esistono su questo comune. Easyv che una volta che è stato rivisto ha avuto nell'ultimo anno 200.000 visualizzazioni e proprio i sentieri di Costa Bissara sono stati tra i più cliccati con 2.500 visualizzazioni, oltre anche i siti, le bellezze storico-culturali che hanno attratto mille visualizzazioni, per cui, ripeto, un buon risultato che portiamo e cerchiamo di incrementare ancora. Al termine della firma sul protocollo di intesa per la valorizzazione della cultura e del turismo nel municipio di Costa Bissara, il sindaco Giovanni Maria Forte, a nome della comunità bissarese, ha consegnato un omaggio floreale alla presidente della delegazione locale, Paola Verzara, titolare del negozio Mirella Moda, poiché l'attività che si trova nel centro storico di Costa Bissara dal 1962 è stata iscritta dalla Regione Veneto nell'elenco dei luoghi storici del commercio. Sentiamo cosa ci racconta proprio Paola Verzara al termine della premiazione. Il mio negozio compie 60 anni quest'anno e ovviamente è stato aperto nel 1962 da mia mamma Mirella, da cui ha ancora il nome, prende ancora il nome, si chiama ancora Mirella Moda, è in centro storico qua a Costa Bissara e diciamo che mia mamma è partita da una stanzetta dove abitava anche, nell'appartamento dove abitava e poi nel corso degli anni ci siamo un po' ingranditi, nel 90 sono subentrata io e adesso sto lavorando ancora con i clienti storici di mia mamma che ovviamente adesso vengono i figli con i nipoti. I miei clienti mi dicono che si sta bene, che è come sentirsi a casa, che hanno sempre il consiglio giusto, ormai io li conosco da tanti anni e riesco a capire i loro gusti. Vorrei ringraziare tutti, ringraziare l'amministrazione comunale, ringraziare la Regione Veneto e soprattutto i miei clienti che sono ancora qua e grazie a loro che mi hanno permesso di raggiungere questo bel traguardo. Per noi è un pregio poter premiare questi negozi storici che rendono più bello il nostro paese e che danno un servizio alla nostra collettività e che in questi momenti di difficoltà economica è importante e possano proseguire. Da San Giuseppe, 19 marzo a Sant'Antonio, 13 giugno, protagonista delle tavole è l'asparago bianco di Bassano DOP. Anche quest'anno prende in via infatti la rassegna del gruppo Ristoratori Bassanese di Confcommercio. Sentiamo il servizio. La rassegna a tavola con l'asparago bianco di Bassano DOP giunge quest'anno alla sua 42esima edizione, confermandosi una delle manifestazioni enogastronomiche più longeve ed apprezzate del Vicentino. Ma due anni di pandemia lasciano il segno e trasformano anche le tradizioni più consolidate. Così quest'anno la formula prevede degustazioni non stop nei locali aderenti alla rassegna anziché le classiche serate enogastronomiche. Dopo due anni di sofferenze volevamo cambiare anche noi ristoratori, non più promozionare soltanto le serate ma fare un messaggio molto bello agli ospiti che tutti i giorni da noi mangeranno uova e asparagi DOP di Bassano. Non andiamo a focalizzare le serate perché altrimenti la gente si concentrava soltanto su quel giorno. La materia prima non mancherà. Obiettivo 700 quintali di mazzi di asparagi di Bassano DOP certificati e quasi tre mesi per gustarli con gran finale il 12 giugno a Cimagrappa. Faremo un risotto che lo offriremo ai turisti di Cimagrappa che devolveranno un aiuto per il restauro dell'ossario di Cimagrappa. Non resta dunque che prepararsi all'assaggio individuando il ristorante preferito tra quelli nell'elenco che potete consultare sul sito ristoratori di Vicenza.it. Ed ora le altre proposte formative. ESECA Formazione propone il corso di inglese intermedio livello B1 martedì e giovedì 31 marzo e poi il 5, 7, 12, 14, 19 aprile dalle 20 alle 22 e 30. Il corso di inglese intermedio sarà focalizzato sul perfezionamento della conversazione, della produzione scritta, della lettura e dell'ascolto all'interno di possibili situazioni reali con l'obiettivo di raggiungere un buon livello di padronanza della lingua. Martedì 5, 12, 19, 26 aprile e poi il 3 maggio dalle 20 alle 22 e 30 corso l'intelligenza emotiva, una competenza chiave nelle relazioni professionali. L'intelligenza emotiva raggruppa tre abilità fondamentali, l'autoconsapevolezza, l'autocontrollo e l'empatia. Queste personali capacità, se adeguatamente utilizzate, possono costituire una marcia in più nella propria realizzazione professionale. L'Università del Gusto propone il corso Dry Aging, un metodo innovativo di frollatura della carne, che si terrà mercoledì 30 marzo dalle 14 e 30 alle 18 e 30. Il corso è tenuto dagli esperti di Degusti Buscarnis, l'Istituto Italiano Assaggiatori Carne, che illustreranno la tecnica di Dry Aging, il processo di maturazione o stagionatura della carne, realizzato con procedimento a secco per un periodo medio-lungo ad umidità controllata. Infine, il corso Gusto Creativo, il pesce, martedì 3 maggio dalle 9 e 30 alle 15 e 30, una giornata dedicata alla cucina del pesce per i professionisti del settore, durante la quale saranno realizzate ricette innovative in grado di sorprendere il cliente finale per gusto ed impatto estetico. Ad interpretare la grande ricchezza di questa materia prima sarà lo chef Gianluca Tomasi. Ed ora l'agenda. Mercoledì alle 14 e 30, webinar dello sportello Innovazione, come scrivere sui social per aumentare e fidelizzare i clienti, piano editoriale, piattaforme, tono di voce. Alle 18 e 30, incontro del gruppo Le Macellerie del Gusto. Venerdì alle 14, webinar La digitalizzazione del business, le azioni chiave da attuare subito. E per quanto riguarda questo appuntamento con ConfCommercio Notizia, è davvero tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domenica prossima. Una rivederci e buona settimana. La rivederci e buona settimana.